Il martelletto da giudice, noto anche come mazzuolo o martello da tribunale, è un piccolo strumento percussivo che viene utilizzato da alcuni giudici per mantenere l'ordine in aula o per segnalare la presa di una decisione. La storia di questo simbolo giuridico è molto interessante e variegata, la tratteremo in pochissimi minuti. Le origini esatte del martelletto da giudice sono incerte ma si ritiene che sia emerso nel Regno Unito o negli Stati Uniti in un'epoca moderna. Non c'è una lunga storia documentata del suo uso a differenza di altre tradizioni legali? Curiosamente nel Regno Unito tradizionalmente i giudici non usano martelletti. La loro assenza è considerata un segno di autorità intrinseca del giudice stesso, la cui semplice parola è sufficiente per mantenere l'ordine nell'aula. Negli Stati Uniti il martelletto da giudice è diventato invece un simbolo comune e riconoscibile dell'autorità giudiziaria. Viene utilizzato per richiamare l'attenzione e segnalare l'inizio o la fine di una sessione in tribunale oppure per sottolineare la presa di una decisione legale. Il martelletto da giudice è diventato un potente simbolo della legge e dell'ordine, spesso rappresentato in film, serie tv e altre media. Esso simboleggia l'autorità e il potere del sistema giudiziario nonché la finalità delle decisioni prese appunto in tribunale. Mentre il martelletto è comunemente associato al sistema giudiziario statunitense, è stato adottato anche in altri paesi spesso influenzati dalla rappresentazione mediatica proprio americana. Tuttavia l'uso e il significato del martelletto possono variare a seconda del contesto legale e culturale. In alcuni ambienti legali l'uso del martelletto da giudice è visto come un rituale obsoleto o non necessario. Altri sistemi giudiziari hanno sviluppato i propri simboli o protocolli per rappresentare l'autorità e gestire le procedure in aula. In sintesi, il martelletto da giudice è un simbolo relativamente moderno che ha assunto un significato culturale e simbolico molto molto importante, rappresentando l'autorità e la solennità del sistema giudiziario, soprattutto nell'immaginario collettivo influenzato dai media. Dal prossimo Focus!